domenica 8 febbraio a Fossalunga di Vede Lago alle ore 14 e 30 vi aspettiamo al palio comunale di Sant'Agata sfilata trattori storici Luna Park mostra artigianato trucca bimbi e pesca di beneficenza vi aspettiamo domenica 8 febbraio alle ore 14 e 30 per una giornata all'insegna dell'allegria e del divertimento a Fossalunga di Vede Lago